Radio Ondano Vara TV in questo momento in collegamento con un altro gruppo ragazzi do il benvenuto ai Teos ragazzi un applauso, c'è anche un applauso spontaneo da là dietro guardate adesso lo facciamo, tra poco tutti i gruppi applaudono, come state? bene tutto a posto, benissimo siamo belli carichi anche se abbiamo faticato molto negli ultimi giorni per le prove e tutte queste cose qua però siamo belli carichi allora come vi chiamate? io Teos, in arte Teos, mi chiamo Matteo io Mattia e in arte Mattia, sono proprio semplice quindi è Teos Teas praticamente io sono quello che canta, lui è quello che fa la musica e fa le basi ok perfetto, la cosa carina che leggendo tra la vostra biografia ho letto pop tendente al rap sì diciamo che non è né pop perché non è un genere melodico però non è neanche quel rap duro di strada è un miscuglio che abbiamo diciamo abbiamo la tendenza a fare queste canzoni qua e quindi ci è venuto così ho sentito prima tropical pop, tropical rap eh sì perché è abbastanza estivo come genere, come suoni, come ritmo, è abbastanza tropical allora secondo me voi puntate alle ragazze in parte in parte si è emozionato, guarda che l'ho beccato subito sono fidanzato ma questo tutti lo siamo ti fa veramente Mattia, ovviamente è un genere che piace alle ragazze, diciamolo io lo spero, ragazze se siete in ascolto io sono single quindi fatevi avanti allora facciamo una cosa, dove vi trovate stasera in postazione giusto per le ragazze che passano perché venerdì e sabato qua le vasche le fanno volentieri siamo in piazza Puccini davanti alla Brace dalle 8.30 alle 22 che è un posto strategico ragazzi quindi vi hanno preso proprio nel posto fantastico per un aperitivo ricordiamo magari agli amici di Radio Onda Novara TV anche i vostri canali ufficiali per trovarvi collegamenti vari allora potete trovarci su Spotify, su Teos, è appena uscito il mio album Faccia da Schiaffi, è uscito una settimana fa non direi comunque su Spotify, su Spotify e su YouTube abbiamo un canale si chiama Simply Meister Simply Meister mi piace moltissimo Faccia da Schiaffi i canali ovviamente anche per te sono Mattia Cicale su Instagram basta, io non faccio parte del gruppo in verità soprattutto lui punta le ragazze quindi ragazze andate a trovarli grazie mille ai Teos di essere stati qui con noi stasera e ci vediamo nei prossimi giorni qui al Novara Summer Music grazie mille, arrivederci, ciao a tutti arrivederci era per me perché mi ha dato per il vecchio noi continuiamo con la musica qui con Radio Onda Novara TV Radio Onda Novara in FM e ovviamente al Novara Summer Music grazie mille, 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 gra